Dalla regia di Pippo Baldo Nonno e nipote stavano giocando a carte tranquillamente O quasi tranquillamente I soliti scherzi quotidiani Era ora di pranzo E mentre tagliavano allegramente il prosciutto O quasi allegramente Poi tutto cambiò E' un piede Che è? Che è? Che è? Senti, non vuole, non vuole, zitto, 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 zitto Ma zitto che è? Senti, senti Senti Sento niente Senti Senti Sì, ma vado a sentire anche da me Ma che è? Una buce Che è? Che è? Che è? C'era il gas aperto Madonna mia Guarda Un film che penso non lo fanno Perché è scappato Quindi niente C'era il gas aperto